Sì, mi sono spettacolo, le mani in su tutti! Le mani al cielo, dai! Ok ragazzi, a sedere! E già lo spaventano! Saluti ragazzi! E come va, Andrea? Occhio in movimento! Buongiorno! Buongiorno! Ragazzi tutti pronti? Sì, la facciamo! ragazzi è stato schierato è stato schierato ragazzi allora credite come inizio può andar bene lo facciamo più basso dai dai lo volo di sopra accelera è stato schierato lasciare i paliglioni dai facciamo un po' di casino esagera che spettacolo che spettacolo una esclusiva europea unica nel suo genere questa è la novità dell'anno ehi andiamo per partire ragazzi tutto a ritmo di musica quelle mani non le vedo quelle mani c'è qualcuno che lo vuole ripare dai riprobiamo subito un altro brivido al contrario che roba che roba che roba ok arrivati game over si muove ragazzi sotto chi tocca nuovo giro nuova corsa ciao ciao Grazie a tutti.